Ciao! Se vuoi supportarmi sulla piattaforma Viola con Amazon Prime, la sub è gratuita! Oppure puoi pagarla 3,99€. Dai, dai, dai! Supporta un bro! La tana del frerito! Ciao Broderigno! Eccolo qua! Aspetta, aspetta, aspetta che non ho cambiato di scena. Questo qua fattura 30.000€ al mese, si dimentica la fotocamera a casa. Dimmi tu. Parla di soldi al volo? Sì, purtroppo non si può. Aspetta un attimo. Brava, ciò. Hai detto brava la chat perché ride alle tue battute, Ale? Ho l'idea, ho l'idea. Mario, ti rispondo dopo perché mi spiace annichilirti mentre... No, 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 è giusto che tu provi ad annichilirmi quando c'hai un confronto con un altro viso. Aspetta un attimo che adesso litighiamo per bene come due guerrieri, però devi aspettare un attimino. Il link l'hai passato a Darione? È sempre il solito o cose del genere? Puoi fare da lì? Allora, Ale... Oh, però se Darione deve entrare a massacrarmi, no, eh? No, 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 beh, più che altro massacra me che sono venuto qui ospite. Vabbè, ma è una finzione, Simone. È una finzione come finto è l'annichilimento di Ale? Vai, proviamo una, Chuck. Guarda che Ale ti distrugge, Mario. Ma guarda, io non mi faccio distruggere volentieri. Dipende da quello che dice. Già ti ho sentito, Ale, dire content e fatturazione di soldi al mese. E già mi è venuto il pisello moscio. Cioè, tu ti rendi conto, bro, che poi escono fuori da TikTok, si parla di soldi. Quello che i giovani devono fare a livello di motivazione da guru di sto cazzo. Ma, Mario, Mario, di cosa vuoi parlare? Cioè, i giovani li rincoglionisci, Ale. Li rincoglionisci. Sei in una live di Simone Buratti. Aspetta che c'è diverso. Sei in una live di Simone Buratti, il luogo in cui nasce il rincoglionimento generale dei giovani italiani. Allora non possiamo mitigare. Siamo d'accordo. Siamo d'accordo. Allora, io posso essere a casa con otto viti nel piede, ridotto a guardare una live di Gran e l'accendo un po' per intrattenermi, così per spegnere il cervello. E la prima cosa che sento è di Siammi The Show. Ma voglio dire, ma posso stare tranquillo? Almeno adesso che ho la gamba rotta. No, c'hai ragione. Rupere i coglioni. Dai, dai. Che cosa, cazzo, per favore. Dai, non ruppere il cazzo. Ciao, Dario, sono da GranBaud. Ciao, Dario. Ciao. E' qui che si parla di fatturazione, di quanto guadagni al mese. E chi voglio partecipare? Quanto guadagni al mese? Io? Non lo so. Te molestando i vecchi, cosa, quanto guadagni? Come? No, dicevo, te quanto guadagni al mese? Molestando i vecchi? No, molestando i vecchi l'ha detto Mario, eh, mi sa. Ah, Mario, cosa dici? No, ma io non molesto i vecchi. Ah, no. Molto basso, Ale, delle show. Ale, sei basso, eh. Ma raga, sono... Molesta un vecchio al volo per comprare il microfono nuovo. Sono so... No, no. Come stai, Mario? Ti trovi bene lì, in questo nuovo ambiente che ti protegge? Mario, ti rispondi Dario? Sì. Siamo amici, Ale. Ah. Hai dimore riverenziale per Dario Mocha, quindi non vuoi più annichilirmi. No, guarda, se vuoi farci vedere più grossi, devi cliccare la visuale in sedicina. Ma stai zitto, quello che sto facendo non sapresti farlo neanche tra due anni. C'è un tasso sotto. C'è un tasso sotto. Non hai la fotocamera. Non voglio. Io lo faccio da sei anni, quello che ti ho fatto. Oh, io ho dimenticato la fotocamera, sto usando l'iPhone, e ho usato mille fotocamere virtuali. Darione, per favore, dai. E anch'io, basta aggiungere la fotocamera virtuale. No. Vuoi mettere la visuale? Ma dai, qua. Ma perché? Ma si vede bene così. Non si vede in cazzo. Oh, lo vedi così? Si vede la grafica, si vede lo sfondo. È due anni che fa questo lavoro, ma ancora non capisci un cazzo. È incredibile. Va bene, Dario. Va bene. Ti stai nervosendo? Hai tipo un nervo di nervoso. No, no, questa è la mia vena. È la vena collegata direttamente al sesso. Al sesso. Così, al sesso a caso. Ho due vene maestre. Una qua e una sul cazzo. Ma voi vi odiate? Sì, io gli odiate. No, ma io lo rispetto un sacco. Mai si vuole. Vabbè, dai, guarda, Ale. C'è un tipo una faida? No, no, non ci sono faide. Non ci sono faide. C'è oggettivamente una faida. Aumenti subito. Ah, beh, già è vero che questo stronzo usa Streamlabs. Madonna, maiala. Sì, Streamlabs su Streamlabs, comunque. Ma Streamlabs è il migliore. Streamlabs into Streamlabs. È la cosa migliore, Streamlabs. Tu cosa usi? Discord? Che quando uno parla si vede il verde. Adesso OBS, comunque. Ti si dillo a tutti quelli che hanno scammato il link e sono entrati nei tuoi live senza avvertirti. Dai, Dillo, diglielo bene, vai, vai, vai. Comunque, a mia discolpa, Alex, pensavo di dissare qualcuno che non avesse problemi alla gamba perché non volevo crearti altri disagi. Hai già parlato di content e di fatturazioni. Sono delle scuse? Allora, se le chiami scuse ti dico succhiami il cazzo. Non lo so, io speravo di poter chiudere questo capitolo e iniziare da un altro. Se tu mi chiedi scusa, io sono una persona ferita. Se tu pensi di prendertela con una persona assente e ferita. Ok, io pensavo di trovarti in forze. Non voglio combattere contro qualcuno di ferito. Io ti chiedo scusa e siamo amici. Ma cos'è che è successo? Grazie, va bene. Ma no, ho fatto una battuta perché l'ho trovato in un TikTok ma non ho visto neanche la live. Quindi non ho idea di quello di cui si è parlato. Ma io ne ho approfittato per fare qualcosa. Ah, Dario. Hai fatto bene. Dario. Di visibilità. Dario. Dimmi. Ciao, Dario. Dimmi tutto. Come stai innanzitutto? Aspetta che devo fare... Deve fare popò, ma deve stare per forza qua. Adesso comincia a sparare a cazzate. C'è detto Mario, ha sentito qualcosa? Ha detto... Che cosa ha detto? Ma mi spiegate le dinamiche, scusate, le dinamiche... Chi è Mario? Che dinamiche ci sono? Mario... Sono un ragazzo siciliano, umile, ha un sogno nel cuore. Fine. E c'è la gente... Vediamo se non si abbassa... Oh, non si abbassa più, madame. Annaggia, streamer di merda. Vai, ci sono, ci sono. Dai, host, dai il contesto. Dario, volevo chiederti tutto. Come stavi? Bene, sto benissimo, ho un trionfo. Ok, ok. Cos'è che è il ricordo più bello di questa settimana? Il ricordo più bello di questa settimana sono stati i contenuti con Mario, mio sodale amico Caterno. Sì, sì, che poi dici contenuti perché siamo qua, perché non ti ho mai sentito parlare di contenuti. Ah, ho capito. Come Ale di The Show dobbiamo utilizzare un nuovo vocabolario. Va bene. Oh, ho sentito il commercialista. Ragazzi, sveglia. No, perché si dice content, Pistorius? No, no, perché dicono tutti content. Tipo, voice dice content. Eh, allora, che non è la persona... Vabbè, già, quindi... Sveglia, ragazzi. No, ma non puoi utilizzare voice come... Ma non puoi usare voice come... Come cazzo di esempio. Ma che esempio? È come, non so, parlare di porno e prende come esempio Madre Teresa, cioè... Ho capito, ma cioè, se non ci fosse voice tu non faresti live. Ma veramente no, guarda. Ma che cazzo dici, Ale? Ma cosa cazzo dici? Non farebbe... Ma perché, perché i The Show, i The Show credono che Twitch sia solo reaction, perché hanno... Perché non c'hanno voglia, sono vecchi, sono 64 anni... Sì, sì, sì. E credono che Twitch sia solo quello. Sì. Ma che cazzo dici? È come se a te dicessi, no, voi fate solo candid... Ah, no, è vero, no. Sì. Sì. È come dire che fai live, sono operale della giusta, cioè... Ecco, bravo, ecco. Che approfitto di venere. Giusto? No, comunque Dario fa anche qualcos'altro, oltre alle reaction di Giovanni Poiss. Cosa fa? Le reaction a dare della giusta. Le carte. Fa Radio Tomodashi, che è una cosa di podcast. Le carte. Poi sta con i suoi amici, gioca ai videogiochi. Le carte non c'entra niente con Twitch. Twitch non c'entra. Va bene, dai, ma io devo giustificarti delle cose che fai. Dillo te a sto punto. Sto rispondendo a Simone. Perché voglio sapere chi era Mario. Ma io non ho fatto domande, Dario. Mario è quello lì, è quello con i baffi. Ma io sono io, vuoi sapere cosa faccio nella vita, come guadagno, che tipo di partita io faccio il mio condizionale. No, esatto, i baini. I baini, i baini, i baini. Sono un ragazzo a cui piace il teatro, non mi so definire in altre maniere. Mario, ma che ne va, va, fa il culo, dai. Ma che gli devo dire, veramente sono uno streamer di Twitch, eccetera. C'è uno streamer? C'è uno dei pochi che non lecca il culo per fare questo lavoro. Ma ci sono i baudi, di cosa stiamo parlando? Ma poi c'è l'amico di Dario Moccia, l'amico di Marco Merrino. Se c'è uno che può essere chiamato raccomandato in Italia, sono proprio io. Hai ragione, fratello. Qui sei venuto da me per leccarmi il culo. Certo, ovviamente. Certo, per forza. Eh, porca troia. Qua posso anche bestemmiare. Comunque, a parte gli scherzi, faccio live pure io. Ale. 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 Non lo sapevo. Devo essere sincero, non ho grandi conoscenze. Moduriamo un po' i termini. Comunque, ragazzi, passiamo la voce. Intendi con il per forza di moderati termini, giusto? Perché è l'unica parola sbagliata che ho sentito qua dentro. Senti, Dario. Parliamo di docce, Grimbaud. Perché non te le fai? Non puzza, non puzza. Anche se ho sentito un odore di ganja entrando incredibile. Sto scherzando. Vedi ovviamente il tuo ambiente naturale. Dario. Cosa ne pensi del canale di The Show? Avete mai visto i react dei loro video? Sì, sì. Ai tempi, sì, quando facevo lo youtuber, mi capitavano. Ora no, ora mi concentro solamente su Twitch. No, e... Non so. Candy camera mi garbano. Io sono un po'. Mi garbano. Però ora non so più. Le ho persi un po' di vista. Non so che... Si è cambiato. Perché per fare le reaction ai video di Foy se i nostri video non le fai? Non le faccio perché Foy sei involontariamente comico. Voi volete essere comici davvero. No, ma noi siamo involontariamente comici. Te lo giuro. Non ha senso. Non ha senso. No, aspetta, ti rispiego. Se te fai una reaction a una roba che di per sé vuole far ridere o far ridere, non ha senso. Te devi fare una reaction sulle cose involontariamente comiche. Che ti danno il là per fare battute. Perché se le fate già voi le battute o fate scherzi voi, perché devo fare le reaction? No, ma i nostri video sono tristissimi. Cioè, noi non... Hai cambiato subito versione. Sì, sì. Ho capito, ho capito. Ma Foy scopo che non guardo un video di Foy da tanto tempo. Non so in che McDonald's mondiale si è andato ora, sinceramente. Dario, Dario. Questo è in Sina. Dario, se Alessandro ti chiedessi di fare tipo un episodio sul loro canale, tipo il video che ho fatto io, costretto a fare prank, lo faresti? No, ecco, perché purtroppo io non sto più in Italia. Quindi non posso... Non è vero, è una puttanata di dimensioni galattiche, è assolutamente in Italia, sta in Toscana, Dario. Sono a Dubai. Sì, a Dubai. No, no. Al studio l'hai staccato dal terreno e l'hai messo a Dubai. No, questo è un green screen. Ha un green screen. Tra l'altro è incredibile, hai invitato qualcuno che non parlerà di Dubai in nessun modo, in studio. Per te è una specie di downgrade a livello di... E di sesso anale nei bagni. Vabbè, comunque hai visto tre clip, hai creato un ecosistema... Allora, preferisci la figa numero uno, la figa numero due o la figa numero tre? È una cosa del genere. Ma, ragazzo, oh, 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 ma a te? Mi ha puppato il cazzo? Dai, dai, fai parlare Ale. Fai parlare Ale. Mai, eh? Va bene. Ora che ho occasione di parlare con voi. Siccome, diciamo, che il mio approdo nel mondo di Twitch è stato Simone, chiaramente io ho una visione, in un certo senso, sicuramente da qualche pregiudizio. Volevo sapere, per esempio, com'è visto Simo nel mondo Twitch? Cioè, voi cosa pensate di Simo? Chi? Di Simo? Graham Bauder. Ah! Sì. Ma guarda, è... Che cazzo ride, punto uno? No, perché ti è venuta analizzata. Rispondi, rispondi, dai. No, si impegna tanto, capito? Mamma mia, si impegna come per di simpatica un ragazzo brutto. Dai, Dario, aspetta, tre parole per definirmi su Twitch. Però tre parole non a caso, che devono avere un senso, deve essere una frase, di tre parole. Microfono. Quello c'è, poi nelle live. Che ne stai guardando lo schermo. Devono essere tre parole che compongono una frase, Dario, non tre parole a caso. Microfono palle culo, cioè. Eh, no, tre parole o una frase? Una frase di tre parole. Eh, sono una frase... Grande, sono tre parole. Ah, sei, uno, streamer. Va bene. Ale, non ridere alle battute di Dario, Ale, che gli dai ancora più voglia di farle. No, 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 ha fatto un riempio sorriso. No, stai guardando la chat. Sei, uno, streamer... Posso dire cosa ne penso io di Grambaud, di Simo? Vai, tocca a te. Perché quando ho detto da me, vado in live da Grambaud, ovviamente da personaggio, da carattere di chat, si pensa che si è schierati da streamer e streamer, quindi si dice, ma che vai da Grambaud? Ma vaffanculo, tipo la classica battuta. Per me, Simo, è uno streamer per persone un pochino più piccole di quelle che seguono noi. Cioè, dei preadolescenti, e proprio per questo che sono entrate, ho detto di Siami the Show immediatamente, perché ogni volta che mi capita un TikTok da Simone, vedo discorsi sui soldi e discorsi sulla figa in maniera estremamente raccaricciante. Ma non è vero. E quindi... Ma come dici vero? E quindi sono venuto qua a dire, ragazzi che ci guardano, anche se noi lavoriamo nel mondo dell'intrattenimento, non è importante per voi che fatturiate milioni o migliaia di euro, l'importante è avere una famiglia felice, stare in salute e avere un lavoro che vi faccia stare bene. Che non lo dice nessuno qua! Ma hai visto il nuovo video che hanno caricato su The Show, tipo due giorni fa? No, no, no. Dove dicono esattamente quanto hanno speso e quanto guadagnato nel 2020. Vabbè, ma quella è un'altra cosa, nel senso si è curiosi a livello di azienda The Show, che è un'altra cosa. Però se arriviamo qua... Ma comunque abbiamo detto solo quanto abbiamo speso, non quanto abbiamo guadagnato, era per differenziarci. Però dico, quella è un'altra cosa, perché è un discorso aziendale. Comunque non penso onestamente che il pubblico di Simone sia tanto più piccolo del tuo pubblico, cioè io credo che comunque è una persona sopra i 28 anni che sta su Twitch e ha dei problemi. No, penso parli di Mario. O ha una gamba rotta. Con chi stai parlando? No, sono pubblici diversi. È vero che il pubblico di Twitch è un pubblico di nicchia, però non ti crede che sia una pappona che si splitta su vari canali. Non è un pubblico di nicchia il pubblico di Twitch, siamo in 2012. È un pubblico di nicchia. È un pubblico di nicchia. Vabbè, è comunque un pubblico di nicchia, sì, ma ha ragione. È una nicchia Twitch. È una nicchia Twitch, rispetto a TikTok, ok? La parola nicchia è una parola. Rispetto a tutti gli altri social. Rispetto a tutto. È una nicchia Twitch. Che comunque è anche una cosa positiva in realtà, cioè. Certo che è una cosa positiva. Non viverla male. Secondo voi se non fosse una nicchia… Poi quando Amazon chiuderà i rubinetti, Simone dovrà trovarsi un lavoro. Però nel senso… Anche Dario. Ti faccio un esempio. Io non mi ho fatto neanche già di tre lavori. Ma poi non ho capito. Ale, ma che vuol dire sta cosa quando Amazon chiuderà i rubinetti? Cioè, tutti quando chiuderanno determinati rubinetti cambierà il nostro lavoro. Il nostro lavoro… Non sai come funziona il business model di Amazon? Sì, le beveveve. Non sai come funziona il business, porco Dio. Ale, chiudi quella merda di bocca, ti prego. Non sai come funziona il business. Ma che frase! Mario, io ho cercato il tuo nome. Ma che merda di frase! Adesso che sei un animatore turistico. Dei show, porca troia. Ma tornale in villaggi. Ma tornale in storia. Ma volentieri. Ma volentieri. Ma come lo sai? Che vuoi villaggi turistici? Ma lo stanno dicendo in chat. Sì, ma come lo sai? Pistorius. Pistorius. Torna nei villaggi turistici. Ma vai a fare il culo, Ale. Vai a fare il culo. Capo animatore. Ha organizzato la coreografia per stasera? Io non so ballare, la organizzano le vice animatrici quelle. Pistorius, posso dirti una cosa? Una critica costruttiva. Secondo me tiri fuori termini così aziendali, il business model di Amazon, eccetera, per nascondere un sentimento in realtà molto più semplice e umano. Ti gira il cazzo che fare Twitch sia molto più semplice di produrre dei video, che ci fa guadagnare 30 volte di più di uno youtuber medio e quindi ti schermi e anzi speri che Amazon chiuda i rubinetti così ti andrà a aggiornare il curriculum. Però secondo me è così. Cioè dipende. Se vuoi che ti risponda... Io ti ho detto la mia opinione, la mia sensazione, poi di... Assolutamente, non lo spero. Diciamo che uso questi termini perché so parlare. Non lo spero assolutamente. Anzi, spero che vada avanti il più tempo possibile. Non credo che fare Twitch sia più semplice che fare YouTube, anzi, è proprio il contrario secondo me. Ho sempre visto quello dello streamer come un lavoro paragonabile ai delivery che lavorano per le grandi società di consegne. Quindi è un lavoro a cottimo. Ci sono tante persone che con questo lavoro a cottimo riescono a guadagnare tanto, è vero, ma al prezzo di stare in live tanto tempo e quindi di sforzarsi di lavorare tanto. Ma non è vera questa cosa? Non è vera, scusa se ti lo dico, ma non è vero. Ma come? È falso. Perché? Ma come è vera? Io sto a live 5 ore. Che cazzo di Dio? Oddio. Cazzo, fischia? È tantissimo. 5 ore? Tantissime 5 ore per lavorare. Mi sa che non abbiamo più... 5 ore di lavoro per te, Tantissime 5 ore. Cerchiamo di avere rispetto per quelli che si fanno 7-8 ore al giorno e si spaccano realmente la schiena. Fatti anche 12 ricoli straordinari. Noi non facciamo un cazzo, anche se lo facessimo per 8-9 ore, lavoreremo dalla sedia a farci volere bene dai nostri follower. Infatti stai fallito come animatore turistico. Chiamalo scemo. Ha il contratto a Nero come animatore turistico a 500 ore. Non è vero. Chiamalo scemo. Ale, ascoltami. I termini content, fatturare, fallito, eccetera, sono insulti che puoi fare a persone che hanno coltivato la loro insicurezza e gli hanno costruito un bel fatturo tot soldi per nascondere il fatto che abbia nel pisello piccolino. Ma io sono un uomo libero. Ma non stavo parlando. Ma di cosa cazzo stiamo parlando? Comunque le persone con il pisello piccolo sono rispettabili. No, 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 pisello piccolo metaforicamente, metaforicamente. Il mio pisello è tanto Ale, ma ti pare che adesso mi insulto da solo? Che colpisce tanti uomini per cui soffrono, magari, come esempio per indicare qualcosa di sbagliato o di meno valido. Allora, 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 io cerco di riportarla sul serio, dando anche delle ragioni a Pistorius. Però ci sono tante cose abbastanza sbagliate. Ma lo dico perché semplicemente faccio da sei anni questo lavoro e un po' le dinamiche l'ho capito, ecco. Che sia un... Che sia... Sentiamo, Grimbaud, ecco, sì. Cioè, nel senso, me lo studio. A me piace. Non è che mi guarda solo guardare i culi su TikTok. Allora, praticamente, mi informa che sul mio lavoro. Il punto è che non sia un modello sostenibile è sotto gli occhi di tutti. Tant'è che Twitch è in rosso. E tant'è che, come ho detto... Già. Twitch è una piattaforma di nicchia. Cioè, accordi e disaccordi, ieri ha fatto mezzo mil... Sulla set... No, sulla sette, su... Mi dico, su nove, mi pare. Ha fatto mezzo milione di spettatori. Mezzo milione di spettatori su Twitch. Non lo fanno nemmeno dieci blur insieme. Quindi è ovvio che sia una piattaforma di nicchia. Però, allo stesso tempo, se una persona è brava e è capace, raggiungi anche un 1500-2000 abbonati, che è una realtà abbastanza grossa, vuol dire che su Twitch sai fare il tuo lavoro, ci campi, ci campi bene, e soprattutto se sei furbo e ti sai mettere da parte un po' di soldi e sai investicchiare qua e là due lire, puoi sostenere tranquillamente la tua passione e la tua vita e fare anche uno show di pregio. Poi, che su Twitch ci sia un botto di merda, ci siano tanti contenuti mordi e fuggi, ci siano robe usa e getta che oggi ci sono e domani vengono dimenticate, nessuno lo mette in dubbio. Però, allo stesso tempo, c'è in realtà una nicchia forte, uno zoccolo duro, che sa creare contenuti, che crea dettenimento e che ha un palizzazzo che non ha niente a che invidiare alla televisione, alla trasmissione media, radiofonica o televisiva. Dimmi tutto. No, è tutto giustissimo, ma eravamo partiti perché tu hai detto che a me rodeva il culo perché gli streamer si impegnano meno e ci mettono meno a fare i contenuti rispetto agli youtuber. Certo, certo. Io risposto quello. Cioè, a me assolutamente non interessa e anzi, sottolineavo il fatto, e io credo che come categoria questa cosa per voi sia importante e sia giusto avere una coscienza collettiva di categoria riguardo al fatto, riguardo a tante cose, riguardo alla questione dei ban, per esempio, non siete minimamente tutelati, riguardo alla questione delle ore che lavorate, riguardo alla questione del fatto che questi 2000 abbonati, nel momento in cui dovranno pagarsi l'abbonamento da soli e non potranno più contare su Prime, forse il 10% continuerà a... Questo è vero, ma questo è vero, ma infatti un content clip... Però non è che ci vodo, cioè... No, no, aspetta, aspetta, ma chiariamo questo primo punto e poi andiamo alla seconda parte. Lo so che la tua era una gag, chiaramente. No, 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 in realtà io ho visto tanti colleghi tuoi, ma tante anche clip vostre, che mi faceva supporre questo, te mi dici no e io ci credo. Cioè, non è che ci ho bisogno di tenere il punto di avere ragione. Se te mi dici no, guarda, Dario, non è assolutamente vero, io ti credo. Avevo questa impressione, me l'hai, me l'hai... No, sono contentissimo. Anzi, sono molto curioso, sono molto... Sono felice di conoscerti, sono molto curioso. È un mondo che non conosco e che mi incuriosisce, però. Ma infatti top, mi hai detto che non è vero, io ci credo. Però poi, per rispondermi, hai introdotto tante cose che sono false. Per esempio, anche il discorso del... Ma non c'è niente di male, è un mondo che non conosci perché fai un'altra roba. Cioè, non è che... La roba delle ore non è vera, la roba delle ore... Guarda, è un falso storico. Ecco, io quest'anno ho diminuito addirittura i giorni di live e non vado più tutti i giorni di live. Sì, Dario, però perché sei tu, perché sei tu, Dario, uno streamer piccolo... Ma cosa c'entra perché sono io? Aspetta un attimo. No, 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 Simone, scriviamo una cosa. Però uno streamer normale non può... Uno streamer che cresce su Twitch cerca di... Simone, scusami, ma non è che... Non può streamare tre volte a settimana, Dario. Uno streamer... Ok, Simone, ma cosa vuol dire, ma cosa vuol dire... Ha ragione, aspetta, ragazzi. Cosa vuol dire perché sei te? Ma non è mica venuto... No, no, aspetta, non è mica venuto... Ma no, che lo spiego io, Dario, cosa vuol dire. No, no, lo spiego io, l'ho detto io, lo spiego io, lo spiego io. Che non puoi paragonare Bono degli U2 a uno che canta al piano bar. Aspetta, quello che sto dicendo io, quello che sto dicendo io... Quello che sto dicendo è che, di base, se vuoi affermarti su Twitch, devi comunque avere un buon numero di ore di live. E soprattutto la costanza è importantissima su Twitch, cioè quello che fai tu di streamare tre volte a settimana o quello che fa Blur, magari anche in questo periodo, che streama una volta ogni secolo, è una roba che Blur lo può fare e fa gli stessi numeri, perché è Gianmarco e la gente è fidelizzata a lui e se lo guarda. Se Blur non fosse Blur e non si fosse costruito Blur, traiardando, 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 se streamasse una volta a settimana, dopo un mese, non se lo cagerebbe più nessuno. Perché però lui si è costruito questo personaggio, quindi si è costruito questa sua grandissima utenza e quindi è diventato relativo il numero di ore di live. Posso rispondere? Ok, io andiamo sui... Io non voglio parlare per ragione, le squadre, io vado sui fatti. Dario Moccia, non è diventato Dario Moccia perché gli è arrivata la mail di Twitch da oggi sei Dario Moccia, tieni questi abbonati, bravo. Mi sono costruito questa cosa e ora mi sono permesso di togliere dei giorni di live. Io me lo posso permettere? Che cazzo vuol dire? Me lo posso permettere perché io mi sono fatto un culo così per sei anni e adesso sono in questa posizione. Esatto, una sega. Hai fatto l'esempio di Blur, esempio sbagliatissimo. Blur ha streamato lo scorso mese tre giorni. Tre giorni. Esatto. Esatto cosa? Hai detto che streamo tutti i giorni. Ho appena... Ma lei non capisce un cazzo, Dario. Ho appena detto che Blur ci può permettere di... Nell'ultimo mese ha streamato tre volte. Perché Blur, come te Dario, si è costruito una community e ora può permetterselo, ma sono poche le persone che possono permetterselo. Questo non è un lusso, è un qualcosa di guadagnato. Sì, ma comunque bisogna dire che come modello di business noi prendiamo un canale YouTube o un canale di Twitch, ok, avulsi da chi li porta avanti, li prendiamo solo e puramente come modello di business, il canale Twitch è chiaramente meno scalabile del canale di YouTube perché c'è un vincolo temporale in tempo reale. Questo dico. Mentre sul canale YouTube è vero che produrre un video di YouTube è più oneroso rispetto che mettersi in live e reagire ai video di Voice, però questo lo dici tu perché secondo me c'è grande dignità anche nel vostro lavoro e grande fatica, grande professionalità, anche perché sennò tutti farebbero lo stesso numero di spettatori. Questo però è vero, però c'è da dire che è più scalabile. Nel momento in cui tu hai un reparto di montaggio, hai un reparto di scrittura, eccetera, puoi in qualche modo, puoi staccare il tuo tempo dalle tue entrate in modo... Ok, però non ho ancora finito di rispondere, ragazzi, è veramente difficile. Oh, grazie. Dicevo, io non mi hanno dato questa community già bella e fatta, me la sono costruita, ripeto, ora me lo posso permettere, ma lui parlava di ore di live, che se non traiardia... Io non sono per niente d'accordo con questa cosa. Allora, quello che ho detto io... Aspetta, aspetta un secondo. Raga, ma ha detto Sandro? Dario, Dario, io sono d'accordo con quello che hai detto tu. Ma cazzo qui ti calmi, sennò te ne mette fuori. Aspetta, Dario, io sono d'accordo con quello che hai detto tu, lo sei costruito, appunto. Io ti sto dicendo che uno streamer che comincia ad affermarsi su Twitch, lascia perdere i top streamer. Uno streamer che vuole iniziare a lavorare su Twitch e cerca di affermarsi su Twitch, ha bisogno di fare un sacco di ore di live anche per mantenere gli abbonati, a meno che non è una grande filizzazione da dire, oh, Blur, non streama per un mese, non me ne frega un cazzo, io il Prime lo do a lui, perché è Blur e perché io lo seguo e perché mi piace. Quella roba lì te la devi costruire come tu ti sei costruito che se non streami per un... dovessi non streamare per un mese, comunque ritorneresti a avere i tuoi abbonati. Quella roba lì te la devi costruire e per affermarti su Twitch devi fare un sacco di ore di live. Devi streamare tutti i giorni. Io quando ho iniziato a fare le live su Twitch, avevo 5 ore al giorno. Ok, non sono d'accordo. Ok. Posso spiegarti perché o mi devi ripetere la terza volta le stesse cose? La prima volta non l'hai capita e te l'ho ripetuta. No, non ho capito il discorso di... Mario per piacere. No, no, scusa, scusa, scusa. Non ho capito la cosa di Blur, l'avevo capita male, ma il discorso è un altro. Ok, tutti i giorni può darsi, ma che bisogna streamare tantissime ore per affermarsi? Non è vero, perché secondo me conta più la qualità delle ore che streami e quello che proponi rispetto a tante ore. Perché se te in tante ore non parli di un cazzo e stai a guardare la webcam, ma di che cazzo perché devi fare tante ore? A cosa ti serve? Gli abbonati, tanti non arrivano, gli abbonati arrivano perché sono affezionati a un tipo di contenuto, lo vogliono vedere per intero, vogliono schippare le pubblicità, vogliono far parte della tua community, e quindi più ore di qualità fai, meglio... Dario, è ovvio, ho capito, Dario, però se mi dici cose ovvie... No, no, non sono cose ovvie, perché te hai detto tante ore in live. No, no, aspetta, aspetta, tu però dici, se tu non fai dei contenuti interessanti è ovvio che sto parlando solo dell'insieme di streamer che fanno contenuti interessanti... Ah, allora ho capito, ora c'è la specifica... Ok, se sei zitto è ovvio, cioè il fatto è che quello che ho detto io è un fatto, e davanti ai fatti non si possono avere opinioni, e il fatto qual è? Se tu vai a guardarti i dati, gli analytics di Twitch, i canali che fanno più ore di streaming, o comunque ovviamente tra i canali seguiti, i canali che streammano di più, sono premiati dalla piattaforma. Questa cosa è evidente per una serie di motivi... Ma non è vero, sì. ...per fidelizzare il pubblico. Poi è ovvio che tu che hai una community da sei anni, puoi permetterti, grazie a Dio, una modalità di lavoro differente. Ma non è vero, ma Gischianto, ragazzi, stava tutti... Vabbè, non si può parlare così, dai. Mario, ma che cazzo fai? No, no, io davo atmosfera nel conflitto. No, perché non possiamo parlare tutti insieme, quindi davo un tappeto. Se ho disturbato chiedo scusa. Cioè, no, no. Era carino. Eh, Mili, io sono abituato a far parlare e poi a parlare. Se mi interrompono diventa difficile. No, no, non solo. No, Mario, si sentiva solo te, non si riusciva a parlare. Ah, va bene, va bene, va bene, va bene. Dai, dai. E questa è ugualizzazione Simone Grembout, comunque. Che schifo. Vai, vai, vai pure. Dunque, stavo dicendo, non è vero, perché Ceduzzo è lo streamer che ha streammato di più nel mondo. Cioè, tipo, è due, tre anni che non stacca mai la live, Gischianto. Sono persone che fanno ore e ore e ore di live e rimangono sempre lì. La qualità premia su Twitch, non la quantità di ore. Però, secondo me, uno che vuole iniziare a fare live su Twitch, io dico, ok, voglio iniziare a fare live su Twitch. Secondo me non è un buon approccio dire faccio tre live a settimana. Perché semmeno non vado nessuna parte. No, quello no. È quello che dico. Però, quello che stavo dicendo, però anche lì sono stato interrotto. Quando dicevo, io mi sono permesso... Cazzi, Dario! Eh, io sono abituato a fare così. Sono ad un torri. Ti faccio parlare e poi parlo io. Dai. Va bene? Perfetto. Ce la fai? Ce la fai a mantenere la soglia di attenzione? Dicevo. Allora, parla Dario. Sta parlando Dario, Mario. Per favore, queste cose... Io mi sono permesso di fare quattro giorni a settimana di live perché mi sono costruito una community e perché ho cercato di massimizzare la qualità delle mie live. Adesso la gente non si stacca più perché è affezionata a quel tipo di contenuto. Ok? Bene. Se uno vuole iniziare su Twitch, chiaro che non può fare due giorni a settimana di live o quattro giorni che siano, ma devi massimizzare la qualità dei contenuti. Devi fare un parinzesto, devi fare delle robe fighe, devi fare dei format fighi. Oggi facciamo questo e stare dodici ore a dire niente in live perché la gente non gliene frega un cazzo. Certo. Questo è il mio punto di vista. Ce l'ho fatta. Vai, ora dite quello che vi parlo. Ce l'ho fatta. Allora, per me, per me Lautaro si doveva sistemare la zolla. No, adesso parlo io. No, no, scusami, no, non è vero, non è vero, vai tu, non ho niente da dire. No, secondo me tu, Dario, cadi in una fallacia logica che si chiama induzione, cioè tu usi degli esempi particolari per provare a definire il generale. Ma non è, cioè, questo non toglie il fatto, e ci mancherebbe altro, che Gischianto, non so chi sia, può streamare quante ore vuole e se non streama cose di successo non lo guarda nessuno. Tu hai una community da sei anni e puoi streamare meno, ma ciò non toglie il fatto che presi come insieme solo gli streamer che portano un contenuto di qualità e sappiamo che l'intrattenimento la qualità è la cosa più importante per avere l'attenzione del pubblico, quindi anche è inutile, da mio parere, dire serve la qualità. Ecco, presi gli streamer di qualità, è ovvio che su Twitch serve più tempo dedicato in tempo reale rispetto a quello di YouTube. Era questo il mio punto, capito? Non ce l'ho d'accordo. Ma poi c'è YouTube rosso, Twitch e viola. No, parlavo di altre differenze. Eh, questo non sto zitto. Esatto, no, esatto, è sullo stesso livello. No, io, a parte che non è inutile dirlo nei tempi che corrono, perché a me sembra più che si stia premiando la qualità. No, hai ragione, tra di noi forse è inutile. Eh, tra di noi sì, per il grande pubblico no, anzi è meglio se si ribadisce che la qualità è fondamentale in questo lavoro. Quello che sto dicendo è che, secondo me, uno streamer che può partire ora, secondo me non conviene nemmeno che parta, perché il mercato è troppo saturo e non c'è più spazio per niente e quella bolla di sub si smistano, la sub ormai nei soliti canali eccetera. Però, mettiamo caso che fosse una piattaforma normale, secondo me la qualità già dall'inizio c'è arrivare preparati, con idee in mente, con rubriche in mente fighe, ospiti fighi, contenuti fighi, è già un punto in più rispetto a, ok, streamo 12 ore, chiacchiero, guardo la chat, guardo i video su YouTube a caso, secondo quello è il mio punto. Ok, ma voi sei da quello tutti, credo. E non sono esempi, no, non sono esempi, sì, però non sono tempi, Reddit c'era alle 22, Manu, complimenti. Non è così scontato in realtà, e non sono esempi particolari, in realtà chi streama tanto ora può streamare a quanto gli pare, ma se non hai personalità, te non funzioni, le rubriche non funzionano, non cresci, eh, se fai tante ore di live. Io non sto dicendo che, ma è ovvio, non sto dicendo che chiunque se si metta a far live su Twitch sei ore al giorno diventa Dario Moccia, è ovvio. È tanto che non scopo. Cosa stai cercando? Eh, no, no, niente, niente, volevo dire qualcosa pure io, cioè... Mario qua ti spiega una cosa, Greenbound, non lo conosci Mario, Mario quando partecipa ad un argomento che non gli interessa, o il tono della conversazione non gli interessa, cerca di disturbare e di portare la conversazione dove vuole lui suona la chitarra, perché non si sta, non si include, non riesce ad adattarsi. C'è da dire che era l'ossite lui. No, 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 ma... No, me ne vado, ora me ne vado. No, no, oh, oh, allora tu stai dove sei. No, tanto devo fare le mie cose, devo fare le mie cose tanto. Allora, a me piace un sacco che si sia creata questa situazione e io sinceramente do l'apporto, nel senso che se uno dice secondo me, l'altro dice secondo me, lui, scusate se ti ho toccato, non volevo, lui fa il conduttore comunque in difficoltà, in questo momento ho la parte del conduttore in difficoltà, io che cosa posso fare se non il coglionazzo? Cioè uno dice la verità rossa, uno dice la verità viola, poi c'è Grimbaud che sta con la tuta e io che devo fare se non è il demente, scusate. No, ma non è quello, a parte lei è ridotta una farza, lui diceva le sue idee, faceva delle domande perché era incuriosito da Twitch, io cercavo di rispondere in base alle mie esperienze, perché lui fa YouTube, io faccio Twitch, cercavo di spiegargli delle robe e siccome ci tengo molto a questa via cazzata e a questa fogna in generale, non parlo di Grimbaud, parlo di Twitch, cercavo di spiegare perché secondo me la leggenda di tante ore è una leggenda e siccome molte persone si ammalano di questa roba delle ore e dei numeri, è proprio una mia battaglia personale contrastare quest'idea perché secondo me la qualità paga in un mondo dove c'è sempre meno qualità e più quantità, basta vedere TikTok, è giusto cercare di, anche se è un'utopia, cercare di andare incontro tendenza, cercare di rompere un po' i coglioni alla tendenza. Vabbè, togliamo la roba delle ore, comunque sei d'accordo che di base uno streamer è buono che streammi una volta al giorno, tranne magari due giorni di pausa. Siamo d'accordissimo, io stavo facendo un discorso su di me spiegando che per quei sei anni io ho creduto tantissimo nella qualità dei contenuti e appena ho potuto nella struttura dei contenuti e mi ha premiato questa cosa e la mia community di YouTube non c'entrava niente perché io sono stato scoperto su Twitch dopo un anno dagli iNub, figurati, quindi non c'entra niente, semplicemente credendo nella qualità poi mi ha premiato, però chiaro per uno che inizia, è un altro discorso, però per uno che inizia non gli consiglierei di stare 14 ore davanti al computer, gli consiglierei di prepararsi mentalmente, aspettare che gli spettatori arrivano, anche se c'è una discoverability su, questo posso usare un termine inglese anch'io. Oh bello questo, ovvio che dice bravo, se non l'aspettava altro che un inglesismo. Pessima su Twitch. Sì dovrebbe esserci una funzione, secondo te sarebbe figo Dario, se ci fossi su Twitch scusami, arrivano gli abbonamenti e... Se ci fosse su Twitch una sorta di per te che scorri tipo delle live. Beh cazzo è quello che gli chiediamo da una vita a Twitch. Sarebbe figo vero, perché non lo fanno cazzo? Sarebbe più interessante, uno scorre e dice ok mi fermo qua e guardo questo. Sì a livello di design c'era un grande youtuber che ho conosciuto soltanto adesso, che ha reattato Dario da poco, che ha ridisegnato la home di Twitch in maniera che fosse più utile anche ai piccoli creator. Ah quello che quando mente donna il beat non vedi neanche la chat? Non lo so, non lo so, però se devo raccontare anche la mia esperienza, io ho macinato sì tante ore, ma è stata più la passione non sentirle pesanti anche se siano 6 o 12, cioè per fare questo lavoro devi essere portato con i tuoi pregi e non devi avere dei difetti collegati al fare streaming. Ci sono persone che dopo due ore di streaming gli viene da morire e ci sono persone che gli verrebbe da morire fare soltanto due ore di streaming, alla fine ognuno ha setacciato la propria forma di intrattenimento. Io faccio fatica a streamare tante ore, io sto poco male. Ha dei show e fa dei video, quindi scusate, ciao l'abbonamento, fa dei video che poi vengono montati, elaborati con più camera eccetera, ci sono anche gli streamer che fanno altro ma non c'è né niente di peggio né di meglio né nulla di faticoso o meno faticoso, secondo me è una questione di soggettività umana. No, no, cioè non è così, però mi spiace ragazzi. Ma andate a fare in culo, veramente, mi hai detto no, non è così niente e due. No, no, io scherzavo. Ah, ok. È iniziato male, perché chiaramente è iniziato da una battuta di Dario, quindi abbiamo mischiato più fattori più cari. No, 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 aspetta, ci tengo a dirlo, la mia non era una battuta. No, lo so, lo so, ma quello che dico è questo. Allora, ripeto, fare intrattenimento in diretta è un business meno scalabile che fare intrattenimento on demand, punto. Cioè, non è, potete dirmi quello che volete, questo è il mondo ragazzi. Scusate l'ignoranza, scalabile che cosa intendi in maniera concisa? Gomba. Eh, guarda come siamo, scalare un business significa scalarlo, è tautologico spiegartelo. Ma dipende, dipende da caso a caso. Ti faccio un esempio, io ho un'azienda che produce viti, produco dieci viti, voglio scalare, vuol dire che ne voglio produrre cento, quindi devo comprare dei macchinari nuovi. Io ho un canale che produce video YouTube, voglio produrre più video YouTube, assumo più montatori, assumo più autori. Un canale di Twitch, rimanendo il volto lo stesso, ha un limite dato dal fatto che le giornate durano 24 ore, cioè tu non puoi streamare più di 24 ore nel tempo. E soprattutto è un business legato al tempo, mentre il business di YouTube può essere un business legato dal tempo, perché una volta che tu crei un video, questo video diventa una risorsa che è attiva nel generare del valore. Vabbè, però se uno avesse uno studio a casa e ogni giorno fa una trasmissione tipo tutta settata come se fosse un video su YouTube, è uguale. Sì, è più difficilmente scalabile, non è che non è scalabile. Però aspetta, allora ci sono, te ora così lo stai facendo facile, però non è così facile. Se te, allora innanzitutto anche YouTube si basa sul tempo, perché te comunque per registrare, montare, caricare il video ti serve tempo. E se, e se non, se vuoi risparmiare tempo, dritto, dritto, io ti ascolto. La porta qua... Sì, 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 no, è perché non riesco a parlare. Se vuoi delegare, devi spendere, perché devi pagare i montatori, devi pagare chi fa il lavoro per te, ti toglie, cioè ti toglie, ti dà più tempo per fare altri video e così via e così via. E' uscito un bel video in cui diciamo quanto spendiamo, secondo me siamo involontariamente comici. Secondo me dovresti guardarlo, perché potresti prenderci in giro. Ora guardo, e quindi quello è il primo punto, cioè ti devi spendere soldi per risparmiare tempo. Ed è vero che effettivamente poi i video ti possono generare introiti più avanti nel tempo, però non sono assolutamente gli introiti della prima settimana di pubblicazione e poi anche lo streamer può pubblicare i propri video montati a regola d'arte e pubblicati su YouTube. Io guadagno molto da YouTube. Bravo, però diventi video on demand. Entri nel business scalabile che è quello del video on demand. Quando ripubblichi... Però io non scalerò mai un cazzo con i video da YouTube. Scalo di più con... Scalo di più con le live su Twitch perché... Perché Twitch mi permette di avere una vetrina incredibile con un pubblico fidelizzatissimo perché Twitch fidelizza tantissimo per altre cose, per altri tipi di business, chiamiamoli. Quindi dipende da che obiettivi hai. Se ti hai voglia di migliorare il tuo business su YouTube lo posso capire. Ma Twitch ti può permettere, se sei furbo ovviamente e bravo, di poterti allargare in tantissimi altri campi che può essere YouTube stesso, che può essere gadgetistica, che può essere editoria, che può... un po' quello che fanno i me contro te praticamente solo partendo da YouTube invece che da Twitch, però secondo me... Però questo è il mercato dell'intrattenimento legato a... quando è legato a una figura a un volto vale su tutte le piattaforme, è cross mediale. Io veramente parlavo solo e semplicemente delle differenze pure tra fare streaming in diretta e fare contenuti registrati e tutto qua. No, no, quello che ti dico... Al detto del fatto ci sono due cose diverse, cioè come paragonare un professionista del basket con un professionista del calcio. Cioè non so come dire... No, lo so, lo so, lo so. Però... Però... Questa è la partecipazione di Mario perché gli ho detto che non parteciperà, sta provando a partecipare. Io traduco Mario, quando posso vi aiuto. Io do il mio voto da umile ospite. Una domanda seria, una domanda seria anche a Mario, così parla anche Mario. Cioè, voi non... Io vado adesso. Ora vado, però... No, però prima rispondi a questo. Ah, ok. Ciao, ciao, ciao. Allora, finiamo, finiamo. Te ne faccio due, te ne faccio due. La prima è... Cioè, cosa pensate della libertà di parola su Twitch? Cioè, della questione ban? Cioè, del fatto che si possa essere bannati e non si abbia diritto a un appello se non in modi assurdi? E l'altra domanda è se in qualche modo non vi preoccupa il fatto che appunto la gran parte e gli abbonamenti siano ora finanziati dal Prime. È che quando poi chiuderanno i rubinetti, come dici te, che poi non è così facile ugualmente per uno YouTuber mantenere il passo. Voi non avete il rubinetto che si chiude, forse, a meno che YouTube gli pigli il matto e chiudi il server, cosa molto impossibile. No, ma non volevo... Non era un confronto, era una curiosità mia. No, no, ti spiego, ti spiego, ti spiego, semplicemente faccio un'altra cosa. Cioè, secondo me, come ti dicevo all'inizio, un buon content creator riesce ad aggiornarsi e a fare altro. Io facevo YouTube, mi sono adattato a fare Twitch, magari sarò bravo a fare qualche altra cosa o a fare proprio un altro lavoro che non c'entra nulla con il web. Però anche questa roba, siamo un po' tutti precari, perché i giovani adesso, il pubblico, che insomma il pubblico giovane è quello che segue queste piattaforme, cambia mode molto spesso insieme a internet, che va velocissimo, quindi è difficile tenere il passo ed è difficile aggiornarsi con i gusti delle nuove generazioni. Guarda quanti YouTuber della nostra generazione o anche della generazione mia erano sulla cresta dell'onda, poi non hanno più intercettato il pubblico e sono spariti. Quello è difficile. È uguale Twitch, io che ho 33 anni non dovrei fare questa roba qua, perché è difficile per un 33enne conquistare un pubblico di 20 anni, però mi sono adattato. E lì sta solo il talento che premia questo lavoro, non c'è cazzi, poi c'è lavoro, come gli investimenti, però... Aspetta, ma quindi tu non vorresti farlo? Cosa? Twitch, cioè lo fai per necess... No, no, io lo faccio, lo faccio per ora, sì, lo faccio. No, ma dico, perché dici mi sono adattato? Cioè, avresti preferito fare altro? No, mi sono ritrovato a dovermi adattare e poi mi ci sono trovato incredibilmente bene, perché con YouTube non guadagnavo, ho detto proviamo a tenermi in contatto con il pubblico, e poi ho detto, ma sai che mi ci trovo meglio che su YouTube? È andata così, bene o male, molto semplice. Non ho pensato a Twitch. Effettivamente una cosa che invidio a Twitch è assolutamente vero, il rapporto con la community è un rapporto molto più intenso, che magari noi vediamo con la community di abbonati, però io vedo anche quando vengo da Simo, cioè il rapporto... A parte che ci sono poi i streamer che non leggono la chat, a me invece è molto bella. Io la leggo sempre, la sto leggendo anche ora, trasversalmente, quindi sì, sì. Eh no, secondo me, quello è una figata. Eh no, quello è Greenbelt che non la legge. Via, ragazzi, vi devo salutare. Ciao Beddu, ci sentiamo dopo. Grazie. Rano mi ha risposto sul ban. Ah, sul ban, no, io ho sempre detto quello che volevo, le vie per dire le cose ce le hai sempre, devi essere solo un po' furbo per gabbare le regole. Ma come te non puoi far vedere buger culo, però scusi, di una cosa per girare le regole che sarebbe bannabile. Fammi un esempio. Così ora, su Dupiadi non mi viene in mente. Ma non è pericoloso per la salute mentale delle persone che se vieni bannato non puoi più apparire nelle live dei tuoi amici. Cioè questa cosa qua non è un tema da solitare male. Quello è molto grave, quello è molto grave. Ma dai, 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 da quando sto bannando Sdrumox che diciamo questa roba, ma non ci accanto mai nessuno, quindi... Cioè non c'è modo, non riuscite a farvi cagare, ok. No, per ora no, abbiamo fatto di tutto, petizioni, lettere, cose, niente. Sono sbannato dopo quasi quattro anni, Daniel. Se volete la mia opinione io sono prontissimo. Anch'io, eh? Allora, ragazzi, secondo me... Eh, che ci ha provato, sì, sì, sì. Secondo me bisognerebbe demonetizzare semplicemente per un tot di tempo invece di cancellare l'utente e si risolverebbero tante cose perché, come dice Pistorius, va, insomma, una roba seria anche a livello psicologico. Vabbè, comunque, io... Pensate alla qualità delle ore, non alla quantità. Nuovi streamer, mi raccomando, che in realtà c'è bisogno di nuovi streamer perché è figo, si fanno collaborazioni fighe, robe nuove, robe fresche. È bello. Allora, purtroppo con Grinbound è andata male, ma buttatevi, buttatevi. Ciao, Darione, grazie. E allora fidanzatevi, e allora fidanzatevi, e allora fidanzatevi, e allora fidanzatevi, andate, prendetevi una camera d'albergo, fatevi le domande scopate, Dio cazzo... Tutto un paradosso, sono solo un pazzo, questo amore so che sparirà, ora non mi muovo ma nemmeno stacco, canto solo e faccio un na-na-na, ma non posso fare per le cose, sì, quelle che dici, ma come possiamo fare se pensiamo come tanti...